Eccoci qui, ancora qui con noi le 9 e 23 minuti e continueremo questa puntata con gli ospiti di Just Today. Nel frattempo vi vogliamo ricordare nuovamente il nostro contatto Whatsapp dove potete continuare a mandarci foto, video, a scriverci come state trascorrendo questa giornata. Ho visto che qualcuno ci ha anche scritto effettivamente com'è il tempo nelle vostre zone e poi ne commenteremo insieme alla fine e lo faremo anche con un video sempre dell'Aeronautica Militare. Eccolo qui, il nostro numero è il 331-7378-033. Allora continuate a mandarci video e a raccontarci come state trascorrendo questa giornata. Chiederei nel frattempo alla regia se è pronto il collegamento con il nostro secondo ospite. Ok, allora abbiamo anche in collegamento Domenico Luciano Moretti, cambiamo anche argomento nel frattempo. Ciao Domenico, grazie per aver citato il nostro invito. Mi sentite? Sì, sì, esatto, ti sentiamo. Allora io ho preso una moneta in mano, probabilmente mi chiederanno perché. Perché parleremo con te, una moneta da 2 euro, in realtà una moneta anche abbastanza recente, 1 euro, 2 euro. Tu sei un dottorando di ricerca all'Università di Bologna ma sei soprattutto un esperto di numismatica. Una parola che detta così può sembrare in realtà chissà cosa, ma in realtà lo specifichiamo è in realtà il lavoro di chi si occupa di studiare la storia delle monete. Quanto è importante questa attività e perché è possibile attraverso le monete, che se immaginiamo è qualcosa che magari nell'immaginario ideale è la moneta che prendiamo e buttiamo all'indietro, magari alla fontana di Treia a Roma. Quanto è importante una moneta per poter ricostruire storia, cultura e tradizioni di un popolo? Allora sì, le monete per questo, proprio per ricostruire la tradizione, la storia di un popolo, l'economia di un popolo, sono importantissime. Perché questo? Faccio proprio il mio esempio qui al dottorato. Io sto lavorando con due grossi scavi dell'Università di Bologna, nello scavo di Cervia Vecchia e a Zagonara. Noi proprio grazie alle monete che abbiamo ritrovato stiamo ricostruendo notezze, informazioni su queste due località, altrimenti impossibili da capire. Le monete ci danno, perché specifichiamo una cosa, la numismatica spesso viene confusa con l'antiquaria. Quando io dico a qualcuno che sono un numismatico loro subito pensano che io vendo monete. Non è solo questo la numismatica, la numismatica è un mondo, c'è lo studio che c'è dietro la moneta, non solamente il lato A e il lato B della moneta. Tutto quello che c'è dietro, chi ha costruito quella moneta, quando è stata coniata, quando è circolata. Perché ad esempio una moneta coniata a Bologna nel 1200 ha circolato per anche, abbiamo i dati su questo, l'abbiamo scoperto, ha circolato anche per 300-400 anni. Perché io ovviamente mi occupo di monetazione medievale, non moderna o antica, mi occupo di monetizzazione medievale, in cui il valore della moneta era dell'intrinseco, cioè dell'argento o il metallo prezioso, l'oro contenuto nella moneta. Quindi noi grazie allo studio di queste monete, ad esempio io qui in Romagna mi occupo della circolazione di moneta. Perché ogni città aveva la sua zecca, Bologna aveva la sua zecca, Ferrara la sua zecca. Ma come si faceva poi se io commerciante mi spostavo da Modena a Bologna o da Modena all'altra parte? Come facevo? C'erano accordi tra le città. Noi studiamo questi accordi tra le città. Che accordi girano? Qua arrivano le monete che potevano essere spese a Bologna, a Ferrara o da un'altra parte. Poi ci dà anche... Ti chiedo, c'è anche in qualche modo un collegamento tra le monete e la religione, da un altro lato? Perché, ecco, lo dicevamo prima, probabilmente noi ricordiamo quando andiamo magari alla Fontana di Trevi a Roma, e appunto facciamo questo lancio della moneta all'indietro, ma spesso quando si visitano anche tombe di santi, luoghi di religione, c'è anche spesso anche questo gesto di lasciare le monete nel posto. Allora, qual è il legame che probabilmente hai indagato, hai scoperto tra la moneta e la religione, la fede? Esattamente, oltre che hanno un legame proprio indissolubile, perché nel Medioevo qualsiasi moneta, almeno sul lato, aveva un'effigie religiosa. O la croce, o il Cristo, San Michele ad esempio, San Michele è uno dei santi più raffigurati sulle monete. Però prendo proprio l'esempio che hai detto, quello delle monete nelle tombe dei santi. Mi sono occupato ultimamente delle monete trovate nelle tombe dei santi in Emilia Romagna. Ad esempio, qui a Bologna, nella tomba di San Brocolo, aprono la tomba di San Brocolo e trovano un sacco di monete che vanno dal 1300 alla fine del 400. Perché c'erano queste monete dentro? Proprio in questo articolo ho usato come esempio Padre Pio, perché ancora oggi possiamo vedere la tomba di Padre Pio, dei fedeli che lasciano una moneta vicino alla tomba del San Michele. Questo accadeva dal Medioevo. Ho trovato dei documenti inglesi, italiani purtroppo no, nella cattedrale di Canterbury. La tomba di San Thomas Beckett era addirittura in questa cattedrale, nei registri. Nei registri come tutte le altre donazioni, le entrate che avevano con i boschi che avevano, qualsiasi cosa. Si sapeva che la tomba del San Michele era una delle entrate maggiori di Canterbury. Ad esempio, negli statuti di San Diego de Compostela racconta proprio questo gesto. Dice che quando il fedele si avvicinava alla tomba del San Michele c'era un prete che gli chiedeva perché vuoi mettere la moneta? La vuoi mettere per il sostanzamento del clero o per offerta al San Michele? E se un fedele non donava veniva spinto a farlo, perché erano importanti ovviamente per un santuario del genere queste offerte dei fedeli. E questo rito è rimasto tutt'oggi. Lo vediamo a San Giovanni Rotondo, è proprio l'esempio migliore per parlare di questo qui. Quindi le monete sono legatissime alla religione, come ho detto prima, sia a livello iconografico sia da questo punto di vista. Non si può studiare la monetazione senza studiare la religione. Proprio l'anno scorso cerca è uscita la mia curatela sui santi e nelle monete. Ne faremo un altro volumo perché non è bastato uno. San Nicola, la Madonna, tutti i santi sono raffigurati nella monetazione medievale. Quindi sì, sono legati al doppio filo, come giustamente dicevi, la religione e la numismatica. Ci portano a capire anche le devozioni dei popoli. I Longobardi che utilizzarono San Michele sulle loro monete perché dopo aver dopo che Puniperto vienze le sue Alachis. Perché? Perché lui erano molto devoti a San Michele. Erano convinti che San Michele aveva fatto vendita la guerra e iniziano a raffigurare San Michele sulle loro monete. E vorrei rimanere proprio su San Michele, sul nostro santo del Gargano, qui a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo c'è la Basilica di San Michele Arcangelo a Monte San D'Angelo. A proposito dei tuoi volumi, dei tuoi curatela, ecco qui vediamo anche delle foto durante la presentazione, durante quell'evento. Tu hai anche curato insieme a Gioia Bertelli il libro La Porta di Bronzo della Reale Basilica Palatina di San Michele. Qual è in questo caso il rapporto tra la numismatica, la porta di bronzo, che è la porta che, lo ricordiamo anche per chi ci segue, è presente nella Basilica di San Michele proprio prima dell'ingresso nella grotta e il rapporto con San Michele Longobardi. Cosa hai scoperto? Allora sì, in questo libro qua, questo che è appena presentato, diciamo che la numismatica non c'entra tanto, l'ho fatto più per l'amore che ho per il mio paese. Perché purtroppo l'unico libro su questa porta, che è una porta importantissima, viene da Costantinopoli nel 1078, ce ne sono pochissime in tutta Europa, è un manufatto storico-artistico di un'importanza mondiale, noi non ce ne rendiamo conto a volte. Però purtroppo, sia per i fedeli, sia per gli storici dell'arte, non c'era più un volume per mostrare questa porta. L'ultimo volume era del Tangredi, del 1938, un volumetto in bianco e nero, quindi non più utile oggi. Quindi con Marcello Mingotti, un altro professore di Bari, la professoressa Bertelli, abbiamo deciso di ristambare, perché infatti in questo volume c'è una ristamba anastatica del volume di Tangredi, che ormai è introvabile. Però noi ci siamo limitati all'anastatica. Abbiamo deciso anche di dare un aggiornamento scientifico, con tutte le scoperte fatte su queste porte negli ultimi 50 anni. E in più, per dare a chiunque vuole acquistare il libro o vuole vedere, abbiamo messo tutte le immagini, inoltre la risoluzione delle formelle, che sono tutte immagini bibliche. Sono tutte le scene nella Bibbia in cui è presente un angelo. Non sembra che la Bibbia è citato San Michele, lo sappiamo. Però in queste porte il committente che l'ha voluta fare ha messo tutte le storie angeliche che sono nella Bibbia, oltre alle tre dell'apparizio, l'apparizio di San Michele, che è il testo geografico che abbiamo sulle storie dell'apparizione di San Michele. Ha riscolto molto successo questo libro, proprio perché è per me più importante anche degli altri che ho fatto e delle curatele, proprio perché parla del mio paese questo libro. Domenico, ricordiamo nuovamente questo libro, La Porta di Bronzo, nella Reale Basilica Palatina di San Michele, edizioni da Andrea. Ti vorrei riportare sul tema delle monete, dopo questa breve parentesi su San Michele. Per una considerazione, quale credissia in realtà l'eredità che noi lasceremo ai posteri con le monete? Le monete in realtà anche oggi vengono utilizzate, pensiamo agli avvenimenti più importanti. Abbiamo parlato poco fa anche del centenario dell'aeronautica militare, vengono spesso coniate monete per ricordare determinati eventi. È un esempio tra tanti. Quale pensi sarà l'eredità che queste monete lasceranno a chi verrà? Allora sì, come dicevo io non sono un collezionista, io studio, però il mondo del collezionismo è molto vivo. Ad esempio ricordo una moneta per la polizia di Stato, non ricordo se erano 100 anni o 150 anni, in cui c'è proprio San Michele sopra. La Zecca continua a produrre monete commemorative, ogni tanto le monete da 2 euro, dicevi di avere una moneta da 2 euro in mano, le monete commemorative vengono fatte, ad esempio ricordo quella per il Covid, per ringraziare gli operatori sanitari. Tutte queste monete vengono collezionate, quindi sì rimarranno, perché il collezionismo di monete non si è mai fermato. Sappiamo che già nel 500 si collezionavano monete romane, non si è mai fermato, è sempre andato avanti. Ecco perché, come dicevo all'inizio, la numismatica spesso viene confusa solo con il collezionismo. E poi, una cosa che va detta, i collezionisti di monete di solito non tendono solamente a conservarla, a prendersi la 2 euro con il santo e a conservarsela, tendono a studiarle tutti. Hanno proprio la passione, proprio nello studiare le monete, quindi sicuramente il collezionismo lascerà qualcosa ai posteri, anche se solamente l'euro, non è più come prima che lasceremo magari migliaia di tipi di monete. Adesso abbiamo la moneta unica, per fortuna, lasceremo solo l'euro, ma sicuramente verranno rilasciate ai posteri, perché soprattutto queste commemorative di cui vi parlavo. Conservi ancora qualche lira, per curiosità? Sì, assolutamente. Ho le lire che mi regalo mio nonno e da lì mi è venuta la passione per le monete, di quando ero piccolo. Quindi sì, le conservo le lire, conservo anche gli euro. Quando mi capita una 2 euro commemorativa, la conservo, anche se quelle circolate, un domani non avranno valore, perché bisogna conservare sempre quelle in fior di conio, cioè come se uscite dall'azienda. Io, come ti ho detto, non essendo proprio collezionista, mi piace conservarle, ma conservo quelle in circolazione. Perfetto. Ed era Domenico Moretti, dottorando dell'Università di Bologna, socio ordinario della Società Numismatica Italiana. Grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per essere stato qui con noi. Grazie a te Felice, grazie, buona giornata. Grazie.